Guardate ragazze, la nostra scuola sta perdendo punti coolness! Stiamo per diventare il college più patetico del mondo! Dobbiamo fare qualcosa! Ho un'idea! Filmiamo tutte le cose divertenti che accadono qui e pubblichiamole online! Il nostro punteggio coolness salirà alle stelle di sicuro! Che ore sono? È ancora presto! E adesso? Ancora no! Le sei in punto! È ora! Mister Cousine! È ora di combattere! Sono pronto! Facciamolo! Ti schiaccerò! Vedremo! Servizio! Sto vincendo! Con cosa fanno dopo le lezioni? Ho vinto! Ehi ragazze! Questo è per te! Chiamami! Adoro i giocatori di football! Chi è il migliore? Tu sei il migliore! No tu! No tu! Siamo entrambi migliori! Ragazzi, levatevi dai piedi! Hai detto qualcosa, secchione? Sì, ho detto che questa è vendetta! Oh no! Delle foto di noi con i giocattoli! Prendiamola! Eh? Questi ragazzi fantastici dormono ancora con gli orsacchiotti! E ridere! Niente appuntamento! Non vogliamo uscire con dei bambini! Fatto! Ci cascherà! Un test! Un altro test! Quanti! Un altro test! Ehi, cosa sta succedendo? Preso, professore! Scambierò la tua libertà con un buon voto! Ok, accetto! Grazie, professore! Ecco la libertà! L'istruzione di oggi! Chi risponde a questa domanda? Caroline! Ok! Stacey, dimmi la risposta! Ripeti dopo di me! La somma di tutti i lati è uguale al... La prendo! Stai bene? Sì! Prendi, Neil! Woohoo! Oh mio Dio! È un terremoto! Ti stai sforzando troppo! Riposati! Ecco il mio test, signor Cosain! Lucy, prendi di nuovo F! No! Lucy? Devo nasconderlo! Non ti troverà qui! Farai la doccia con la tua F? Continuerai comunque a fallire nei miei test! Una doccia rinfrescante! Una doccia rinfrescante! Cosain, resta qui! Prendi i tuoi occhiali! Ottima idea! Ho dimenticato di nuovo i miei occhiali! Ciao classe! Oh ciao collega! Stai insegnando? Scusa, ho sbagliato porta! Oh, dimenticavo! Giusto! Scusa per averti interrotto! Professore, terremo una riunione di dipartimento tra 5 minuti! Vieni? Ha funzionato! L'allenamento è tra poco! Ehi! Dove sono le nostre uniformi da cheerleader? Dove sono andate? Sono sola? Oh sì! Forza squadra! Vai combatti! Vinci! Ecco dove sono finite le nostre uniformi! Chi ha ordinato una pizza? Noi! Grazie! Aspetta! Caroline? La pizza è in classe? Questa è per lei! Da chi? Oh, con amore! Che gentili! Servitevi mie studentesse preferite! Bella foto! Il nostro preside del college è claustrofobico! Ecco perché è in ottima forma! Cosa succederebbe se chiudessimo l'ingresso alle scale? Oh no! È chiuso! Dovrò affrontare il mio più grande nemico! L'ascensore! Io sono forte! Sono il preside di questo college! Non mi spaventerai! Finalmente! Stasi, perché non sei in classe? Cos'è? Gli armadietti mi attaccano! Aiuto! No! Avanti ragazze! Spingete più forte! Avresti dovuto vedere la sua faccia! Sto filmando! Ah! Touchdown! Prendi Stacy! Preso! Ho filmato tutto! Grazie star del football! Lo spettacolo deve continuare! Oh! Ecco il mio bonus! Vieni qui! Torno subito! Oh! C'è cascato! Fantastico! Ti prendo! Fermati! Vieni da me! Mr. Cosine! Sei nei guai! Mr. Cosine! Sta per iniziare la riunione degli insegnanti! Vieni con me! Aiutami, preside! Avviami! Arrivo! What? Huh? No, ragazza nuova! Questo posto è occupato! Ci sono io qui! Guarda altrove! Ciao! Anche tutti questi sono occupati! Oh! Non posso vincere! Sei indisciplinata! Continuiamo! Cosa scrivo? Oh! Il telefono! Vediamo! Wow! Ciao a tutti! Il nostro punteggio di coolness è aumentato! Guardate! Wow! Facciamo festa! Siamo il college più cool del mondo! Woohoo! Spettacolare! Farina d'avena per tutti! Cosa sta succedendo qui? Siamo in numeri 1 in classifica! Wow! Ti è piaciuto il nostro fantastico college? Allora commenta qui sotto e raccontaci le cose divertenti che sono successe nella tua scuola! E voi ragazzi? Iscrivetevi al nostro canale, mettete like a questo video e fate click sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo esilarante video di Woohoo! Ciao!